Una settimana di seminari, formazione, orientamento al lavoro e sperimentazione di nuovi servizi digitali è quello che la Camera di Commercio Chieti Pescara ha proposto in occasione della settimana europea della cultura digitale. Tanti argomenti utili alle imprese, ai professionisti, alle altre pubbliche amministrazioni e agli studenti sono stati approfonditi nel ricco programma della settimana. Parliamo con il professore Luca Moscardelli, professore associato del Dipartimento di Informatica della Facoltà di Economia e Commercio di Pescara. Quali sono le prospettive lavorative, le figure professionali in ambito lavorativo che voi cercate? Allora diciamo che già da diversi anni come Dipartimento di Economia dell'Università d'Annunzio noi ci preoccupiamo, avendo attivato il corso di laurea in Economia e Informatica per l'Impresa, che è un corso di laurea triennale, ci preoccupiamo di formare figure professionali che lavorino nelle aziende, non solo con competenze di tipo economico, aziendale, giuridico come i corsi di laurea classici, diciamo, dell'area economica, ma anche con competenze di tipo informatico. Infatti formiamo figure professionali che poi sono immediatamente richieste dal mercato del lavoro, proprio perché hanno anche questa capacità di, che ne so, sviluppare siti web, database, scrivere piccoli software, tutte competenze che nelle aziende di oggi servono molto. E da quest'anno è attivo nel nostro Dipartimento anche il corso di laurea in Economia e Business Analytics, il cosiddetto CLEBBA, che è un corso di laurea invece magistrale, quindi diciamo il più due, è pensato come naturale prosecuzione del CLEI e va a formare figure professionali che siano esperte di quelle tematiche che oggi stanno molto a cuore all'azienda. Per esempio, tematiche centrali a questo corso di laurea sono la sicurezza digitale, cyber security e le tematiche di big data, di analisi quindi di grandi quantità di dati che possono venire fuori, per esempio, da come i vari utenti della rete web interagiscono con le varie app che hanno nel loro dispositivo mobile, generando una grande quantità di dati. Ecco, questa quantità di dati deve essere analizzata in modo che possano essere, per esempio, profilati gli utenti. Insomma, ci sono una serie di attività a vantaggio dell'azienda che viene fuori dall'analisi di questa enorme quantità di dati. E queste sono alcune delle tematiche centrali di questo nuovo corso di laurea, appunto, a servizio delle aziende per poter far vincere loro la sfida, anche alla luce di Industria 4.0, la sfida della digitalizzazione e informatizzazione di tutto il sistema. Professore, quanto è difficile, quanto è complicato trovare queste figure oggi? Beh, diciamo, le competenze... Noi rispondiamo proprio a un buco, a una mancanza, perché in effetti queste competenze non è facile trovarle. E proprio per questo abbiamo attivato questi corsi di laurea, per far fronte a una mancanza che c'è nell'ambito dell'offerta nel mercato del lavoro. E ci proponiamo proprio di, appunto, formare figure professionali che possano sopperire a questa mancanza. Siamo con Emanuela Di Luca, direttrice dell'Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile di Ortona. Voi partecipate a questo progetto. L'obiettivo è di trovare delle figure professionali adatte proprio per la vostra scuola. Sì, nuove figure che siano in grado di affrontare quelle competenze necessarie nelle applicazioni tecnologiche per la mobilità sostenibile. Parliamo quindi del settore trasporto, logistica, merce e persone. L'Istituto Tecnico Superiore appartiene al sistema di istruzione di terzo grado in campo nazionale. Forma i ragazzi in merito alle nuove tecnologie applicate alla movimentazione di merci delle persone, quindi infomobilità, tracciamento mezzi, tracciamento e emissione di titoli di viaggio per i passeggeri e tutto il sistema dell'e-commerce. Quindi preparare nuove figure professionali al mondo del digitale. L'82% dei ragazzi che si formano in tecnologie applicate in questo settore ma anche in altri domini tecnologici trovano occupazione entro 12 mesi dalla data di diploma. Anche voi partecipate a questa iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio. Qual è l'obiettivo che vi proponete? Intanto la partecipazione istituzionale è sempre più richiesta nei programmi di progettazione rivolti allo sviluppo del territorio. Indubbiamente la certificazione delle competenze che passa attraverso un processo di individuazione e validazione delle stesse è fondamentale oggi. è un diritto riconosciuto alla persona in sede europea, in sede nazionale e quindi anche in sede regionale. Da qui la necessità di individuare percorsi, processi e meccanismi che possano mettere in evidenza le capacità, le competenze e le abilità di ciascun individuo in tutti i momenti della propria vita. E quindi anche, come nell'impegno settimanale che ci vede coinvolti con la Camera di Commercio, anche sul piano delle competenze digitali. Quanto è importante trovare, scovare oggigiorno queste figure professionali tra i giovani? La rivoluzione che stiamo vivendo è etichettata come rivoluzione industriale 4.0. È una rivoluzione in cui, diversamente da quello che si può pensare, prevede fisiologicamente, come è sempre accaduto in passato, uno sviluppo dell'occupazione. In realtà ogni processo innovativo, tecnologico che vede coinvolti i rapporti tra gli uomini e le macchine, in realtà non necessariamente come si potrebbe pensare, potrebbe prevedere una riduzione dell'occupazione, tutt'altro. Ciò che occorre però è fondamentale, lo sviluppo di quelle competenze che sono richieste dal mondo produttivo e dal mondo del lavoro. Cosa fa il servizio formazione ed orientamento professionale della Regione Abruzzo? In generale di cosa vi occupate? Qual è il vostro obiettivo primario? Intanto diciamo che c'è tutta l'attività che riguarda l'autorizzazione dei corsi di formazione professionale, ma anche in particolare in questo momento storico stiamo dando attuazione a quelle che sono le indicazioni europee e nazionali, come dicevo prima, sull'apprendimento permanente come diritto dell'individuo, della persona. Il nostro compito è proprio di fornire quelle che sono le opportunità che l'Unione Europea offre ai ragazzi. L'Unione Europea vive un momento di crisi adesso, sia a livello istituzionale, a livello governativo, con la Brexit, che non si sa bene quale futuro avrà. Pertanto è bene che i ragazzi si rendano conto di ciò che effettivamente offre loro l'Unione Europea, quindi vederla anche in maniera positiva. Ci sono tantissime opportunità che non si conoscono e quindi una delle mission del centro di informazione Europe Direct, che è gestito dall'Università d'Annunzio, è proprio fare orientamento nelle varie scuole della regione Abruzzo. C'è ancora una distanza tra i nostri ragazzi e l'Europa? Non tutti sanno cos'è l'Europa e cosa fa l'Unione Europea? Purtroppo sì, questa distanza si avverte, mi dispiace dirlo, si avverte anche nei ragazzi che sono nati nell'Unione Europea e quindi sono proprio parte di essi. A maggio ci saranno le elezioni del Parlamento Europeo e lo Europa Direct sostiene anche proprio la campagna hashtag stavolta voto, che sprona le persone, principalmente i ragazzi, quindi first time voters, a dare il proprio voto al Parlamento Europeo, quindi sentirsi parte di un'istituzione europea.